Che cosa succede quando si innesca il ruscellamento superficiale? Beh, quando si innesca il ruscellamento superficiale, quello che avviene è che l'acqua si muove sulla superficie. Qui la domanda che ci possiamo porre, che è al confine tra la meccanica dei fluidi e l'idrologia, almeno così come queste discipline si sono storicamente consolidate, è qual è l'equazione che muove tutto. Una descrizione rigorosa del moto che avviene sulla superficie è data dall'equazione Navier-Stokes. Questa equazione descrive il moto in condizioni turbolente, generalmente, quando gli sforzi che l'acqua che avviene generale sulla superficie sono sforzi cosiddetti di Newton. Il fluido è newtoniano, sono proporzionali, sono linearmente proporzionali alla distanza dalla superficie. In generale, però, quando si va a trattare il problema in condizioni idrologiche, quello che si fa è di semplificare molto il problema, ovvero di integrare le velocità sulla verticale, pensare quindi che il nostro sistema si muova sì con un tirante che viene a crescere e a cambiare attraverso un fenomeno, la turbolenza, che è molto complesso, che è fatto di fluttuazioni di velocità, ma noi pensiamo di integrare la velocità sulla verticale. Ci sono alcune ipotesi che vengono fatte che l'acqua sia non comprimibile di densità costante e di viscosità costante. Quello sulla densità, la densità è effettivamente quasi sempre abbastanza costante, la viscosità invece non proprio, nel senso che la viscosità dipende dalla temperatura in maniera molto rilevante e in prossimità dei 5 gradi è metà della viscosità attorno ai 20 gradi. Si assume che la pressione lungo la verticale sia idrostatica, cioè aumenti con ρgh. Quando io mi abbasso di H, il carico idraulico che si viene a generare è H, in unità di lunghezza, quelle che usiamo anche per il moto nel sottosuolo. Orogi H se lo scriviamo in termini di energia. Assumiamo anche che le linee di flusso siano delle linee rette, più o meno, senza grandi curve, o meglio che le curvature che queste linee di flusso fanno non siano molto grandi. Tutte ipotesi che spesso sono disattese, ma che ci servono comunque per costruire la semplificazione che poi vi mostro. Quindi supponiamo poi che il flusso sia gradualmente vario, anche qui non so se voi avete avuto in meccanica dei fluidi già delle conoscenze pregresse sul fatto che cos'è un moto vario e quando questo sia gradualmente vario. Per esempio, il moto è gradualmente vario quando la variazione delle sezioni del nostro sistema idraulico non sono brusche. L'altra ipotesi che qui facciamo è che il fondo, il bed, chiamato qui in inglese, sia fisso e che nello stesso tempo sia relativamente modesto. Voi capite che assumere che la pendenza del fondo sia modesta in un torrente montano e magari qualche volta non è così soddisfatto. Allora, come deriviamo la nostra equazione che poi si chiama equazione di De San Venant da chi l'ha scritta per la prima volta? Beh, intanto abbiamo alcune quantità di cui teniamo conto. Io ve la ricavo in questa rappresentazione uno-dimensionale. Abbiamo una portata Q di I che è funzione sia di X, cioè della variabile orizzontale che vedete tracciata qui, del tempo. E abbiamo un'area, una sezione che è pure variabile nello spazio. Infatti la sezione è una funzione di X e di T. E abbiamo un influsso laterale che avviene attraverso le pareti laterali di questo elemento che è Q di X e T. Questo influsso laterale qui è segnato con una freccia che va ad alimentare il canale, ma ovviamente può avvenire anche nella direzione apposta. Io vi faccio una trattazione uno-dimensionale, però la trattazione multidimensionale c'è in tantissime parti, per esempio in questo articolo di Casulli che io cito sotto. L'equazione di continuità che poi vi ricavo passo passo, quindi non preoccupatevi, si scrive dA su dT, cioè la variazione di sezione nel tempo, è uguale più dQ su dX, cioè la variazione della portata lungo l'asse longitudinale, è uguale a Q. Ma vi prometto che adesso fra poco questa ve la ricavo. C'è una relazione ovviamente fra la portata e la sezione e questa relazione è assegnata con la velocità media nella sezione, cioè noi usiamo una singola velocità per tutta la sezione A, che era l'ipotesi di cui vi avevo parlato in precedenza. Allora andiamo a ricavare il nostro bilancio di massa. Abbiamo che A di X e T per dX, che cos'è? A di X e T per dX è un volume di lunghezza, come vedete qui l'ho chiamato dX, il mio elemento. È chiaro che qui fa riferimento anche ai elementi infinitesimi, in proprio il momento noi possiamo pensarlo come a un volume finito. A di X e T per dX, quindi è il volume dell'acqua presente tra X e X più dX. Quindi se io vado a fare la derivata, assumendo che dX non dipende dal tempo, la variazione del mio volume di acqua è dA su dT per dX. Com'è fatta un'equazione di continuità? Beh, un'equazione di continuità dice sempre che la variazione di volume del tempo, della quantità d'acqua nel mio volume di controllo, è uguale a quello che entra meno quello che esce, che in questo caso è uguale a Q in meno Q out. Allora che cos'è Q out? Q out è Q di X più dx nella mia rappresentazione che ho qui. E quindi questo Qx più dx io lo posso sviluppare usando uno sviluppo in serie di Taylor, che è Q di X più dQ su dx in dx. nulla di particolarmente complesso. Più naturalmente ci sarebbero i termini di ordine superiore che noi trascuriamo, perché poi considereremo il nostro intervallo dx infinitesimo. Qin, che cos'è Qin? Beh, Qin è Q di T, cioè la parte di portata che proviene dall'interno del volume di controllo ulteriore, più la parte di portata che è chiamata Q piccolo di T, che è immessa o esce nella porzione dx. Qui è supposta, se fosse negativa, in questo caso vorrebbe dire che esce. Se è positiva vuol dire che entra. E Q di T in dx è la parte che entra nella sezione di intervallo dx. Allora dobbiamo fare Qin meno Qout e vedete che ci sono dei termini che si cancellano, in particolare il termine Q di T si cancella. E infatti Qin meno Qout è uguale a Q meno dQ su dx, che io vado poi a sostituire nella mia equazione in alto, quella che ho in alto, per ottenere la prima forma della mia equazione di continuità, dove ho eliminato il termine dx. Sì, qui era Qx dx, ovviamente nel termine già Qin meno Qout uguale a Q dx meno dQ su dx dx. Il dx c'è dappertutto e quindi si semplifica. Questa però è solo la prima equazione di cui abbiamo bisogno. Quando parliamo di equazioni di San Venante, ma in realtà l'equazione di San Venante sono due. Comprendono appunto l'equazione di continuità, che è questa che abbiamo scritto, poi l'equazione che ha a che fare con la quantità di moto. L'equazione appunto di San Venante per quanto riguarda, effettivamente l'equazione di Navier-Stokes che vi ho annunciato prima, è l'equazione della quantità di moto, è il secondo principio della dinamica, è F uguale MA, come vedremo dopo, che noi integriamo però sull'asse verticale. Se prendiamo un volume infinitesimo di fluido dv, qual è la sua quantità di moto? Beh, la quantità di moto in generale è che cos'è? La massa per la velocità, quindi abbiamo la velocità media dell'acqua, che è una delle nostre variabili, per la massa, la nostra massa qui la esprimiamo come ρv, ρv doppio, scusate, per dv, la densità dell'acqua per il volume elementare. Questo è il momento dell'acqua nel fluido. Quindi per il nostro sistema che cos'è? ρv dv sarà uguale a ρv adx, perché il nostro sistema è unidimensionale, quindi ho la mia sezione A moltiplicata per dx. Questa è la forma generale che andremo poi a scrivere, ma vi derivo poi tutti i termini. E quello che questa... vado ad applicare la legge di Newton. F uguale ma. Devo esprimere ovviamente ma, l'accelerazione in particolare, è nel modo opportuno. Il ρv doppio v adx va derivato rispetto al tempo. E questo mi permette di... Potete ancora non capire come, ma potete capire che il termine sottolineato in giallo è parente di quel termine lì. Mentre per quanto riguarda le forze che agiscono, sono di tre tipi. Sono le forze, sono la prima, meno A dp su dx, è legata al termine p, che evidentemente è la pressione. Si sono applicate le pressioni alla nostra superficie liquida. Poi c'è un termine ρv g a s con 0, dove s con 0 è la pendenza che è legato alla gravità. E poi invece c'è un termine che è legato agli sforzi che rappresentano le interazioni fra le parti di fluido e il fluido e le pareti. Tradotto in termini, in altri termini, l'equazione precedente ha un primo termine che è il cambiamento locale della quantità di moto. Abbiamo detto che il primo termine era la quantità di moto, ma il primo termine del termine a sinistra è il cambiamento locale della quantità di moto, perché dipende solo dalla variazione temporale dei tre elementi che sono contenuti in esso, cioè della velocità della sezione ρv. È chiaro che in questo caso ρv non cambierà, l'abbiamo messo come ipotesi iniziale. A è la nostra sezione che a meno che non abbiamo un tubo di gomma, non cambia, quindi cambierà solo la velocità. Il secondo termine ha dentro una derivata rispetto allo spazio. Questa derivata rispetto allo spazio mi rappresenta la variazione spaziale della quantità di moto. Poi vediamo come la otteniamo. Sui termini del secondo membro che sono le famose forze agenti mi ero già espresso prima. Prima lo ripeto comunque sono forze di superficie che rappresentano il cambiamento spaziale della pressione, la forza di gravità e perdite dovute all'attrito. Questi sono i valori che vi avevo iniziato, che avevo già introdotto in precedenza. Ecco, la cosa che va forse detta è che tau pi pi grande in questo caso non pi piccolo che è la pressione pi grande è il perimetro bagnato. Cioè la lunghezza del percorso nel contorno di una sezione se guardiamo la sezione a x nel 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 sistema sopra la parte di perimetro bagnato è quella legata al fondo mentre poi abbiamo una parte orizzontale che è quella legata alla superficie. Ma questo dovrebbe essere un concetto che voi avete chiaro sin da meccanica dei fluidi. Come riarrangiamo queste equazioni? Beh, queste equazioni le riarrangiamo nel modo seguente. intanto andiamo a considerare il primo termine rho v doppio av che cosa questo come si scrive? in generale è la derivata composta quindi è la derivata di dv su dt rho v su a più lasciamoci aperto la condizione che varia anche la sezione effettivamente io ho detto la sezione non varia prima però nella mia in quel momento stavo pensando ad un tubo e qui invece quello che succede è che abbiamo una superficie libera effettivamente la sezione può variare perché la superficie libera può oscillare verso l'alto e verso il basso e quindi questo pezzo poi lo sostituiremo nel primo termine la variazione di superficie libera d'altra parte la possiamo rappresentare in modo semplificato perché questo deriva dall'equazione di continuità che abbiamo scritto in precedenza che è e questa non è altro che l'equazione di continuità girata in cui io avrei la derivata di av al primo membro ma qui l'ho messa semplicemente al secondo membro con i segni negativi cioè meno v d'a su d'x meno a grande dv su d'x sarebbero solo l'equazione di continuità al primo membro e qui sono portati al secondo membro e q invece è l'emissione laterale o l'emissione laterale sul mio volume di controllo a questo punto il mio primo termine diventa una volta che io ho sostituito tutti i termini assume questa forma che vedete rappresentata nel termine a destra in quest'ultima equazione che comprende tre addendi il primo membro dell'equazione di San Venata è allora scritto in questo modo che ho qui elencato ρv a dv su dt più ρv a v dv su dx più ρv vq a questo punto posso anche notare che ρv a v al quadrato su dx è uguale posso andare a calcolare la derivata composta la derivata dei termini monomiali con la solita regola della catena e ottengo l'espressione ho ottenuto l'espressione sotto e questa l'ho già sostituita nell'espressione 1 che cosa è contenuto nel secondo membro cioè nelle forze che agiscono e movimentano il mio e movimentano il mio fluido beh la pressione come può essere espressa la pressione la pressione abbiamo fatto l'ipotesi idrostatica quindi la pressione è ρv g per y dove y è il tirante medio e abbiamo fatto anche l'ipotesi che il tirante medio sia effettivamente rappresentativo del nostro moto e abbiamo fatto l'ipotesi idrostatica che è l'ipotesi di Dupuy per quanto riguarda gli sforzi che agiscono sul fondo invece la meccanica dei fluidi ci dice che lo sforzo che il nostro sistema agisce fa nel movimento lungo le pareti è pari a ρwg r dove r è il raggio idraulico per s sf che è la pendenza di attrito dove il raggio idraulico è definito come la sezione bagnata diviso il perimetro bagnato evidentemente non è p qui nella seconda formula ma è tau andando a sostituire le varie le due espressioni all'interno dei termini che le compongono e considerando che il perimetro nel raggio idraulico il perimetro bagnato è al denominatore compare il raggio idraulico invece al numeratore l'espressione del secondo membro diventa meno ρwg a dy su dx cioè le mie pressioni in base all'ipotesi di dupui le possono esprimere in funzione scusate in funzione del tirante cioè su che cosa voglia dire questo termine ritorno fra un attimo poi ρwg as con 0 che è la parte di gravità e poi ρwg as con f che è da parte che dipende dall'attrito con il fondo e quando io faccio l'ipotesi di dupui implicitamente quello che dico è che la superficie libera del mio sistema è l'energia della superficie libera del mio sistema è rappresentativa dell'energia dell'energia di ogni punto all'interno del mio fluido cioè infatti io assumo sì che assumo l'ipotesi idrostatica cioè che il carico totale sulla verticale sia costante quando io so quindi l'altezza dell'altezza della superficie libera so qual è il carico totale su tutto il mio fluido e questo e questo se vogliamo dà una certa consistenza fisica all'ipotesi idrostatica uguagliando il primo membro e il secondo membro quello che ottengo è beh intanto in alto ho la parte di equazione di continuità e in basso ho uguagliando che ottengo una formula che ottengo uguagliando il primo membro e il secondo membro ottengo un'equazione nella velocità media è un'equazione che si chiama le derivate parziali esattamente come l'equazione di Richards perché dipende sia dal tempo che dallo spazio anche se qui la coordinata è una e ha questa forma che vedete c'è un termine dv su dt più v dv su dx che è una parte dinamica del sistema e poi c'è vq diviso a che è un termine che mi proviene dall'immissione o l'emissione di portata e poi un termine g dy su dx che invece è dovuto lo avevamo ottenuto g y su dx dal termine di pressione dall'ipotesi di dupui e infine un ultimo termine in cui grazie alla definizione che abbiamo fatto qui avendo definito una pendenza di attrito grazie alle definizioni che abbiamo fatto abbiamo nelle semplificazioni che abbiamo ottenuto s con 0 meno s f dove s con 0 è la pendenza del fondo mentre s con f è questa pendenza di attrito questa equazione non è usata nella sua è già una semplificazione dell'equazione di Navier-Stokes però non è generalmente usata in tutta la sua complessità nel caso più semplice è quello in cui andiamo a trascurare i primi quattro termini e teniamo solo quella che chiamiamo kinematic wave è l'ipotesi da un altro punto di vista quella che viene chiamata di moto uniforme in cui pendenze di attrito e pendenza del fondo vengono a coincidere s con 0 diventa uguale ad s con f se reconsideriamo il termine di y su di x otteniamo un'equazione che ancora non dipende dal tempo non è quindi dinamica e mi dipinge quindi delle condizioni stazionarie che non dipendono dal tempo e si chiama onda diffusiva se invece se ancora possiamo avere però un'onda diffusiva più complicata che è quella che comprende anche il secondo e il terzo termine dell'equazione in questo caso l'equazione si chiama equazione quasi stazionaria del moto dell'acqua infine c'è l'equazione dinamica vera e propria che è tutta l'equazione 1D per risolvere questa equazione bisogna ovviamente fare riferimento all'utilizzo di metodi numerici questa è un'equazione iperbolica e tutti i misteri di questa equazione normalmente vi vengono comunicati a meccanica dei fluidi o nei corsi successivi di idraulica fluviale di idrodinamica adesso non ricordo neanche come si chiamano e comunque noi dobbiamo sapere che queste equazioni sono quelle che regolano il moto sulle superfici quindi i nostri moti nei canali o nei versanti saranno in linea di principio governati da equazioni di questo tipo certamente nei canali è più semplice imporre la validità di questa equazione perché se i canali in qualche modo li possiamo semplificare concettualmente come dei mezzi uno dimensionali in cui c'è una lunghezza che domina sulle altre per esempio l'asta del fiume Adige a Trento rispetto alle dimensioni del bacino quando noi andiamo a fare dei calcoli idrologici può assumersi come un elemento unidimensionale e possiamo usare questa equazione per descrivere il moto medio dell'acqua all'interno del suo riferimento all'interno di un modello idrologico in altre condizioni le semplificazioni che sono qui elencate possono risultare utili ad ottenere soluzioni generali che sono comunque relativamente consistenti con quello che si osserva relativamente utili a quello che si vuole progettare un'ultima notazione riguarda che cos'è S con F S con F è questa pendenza di attrito che deriva come dal calco di quelli che sono gli attrici sul fondo in condizioni di moto turbo lento queste queste sono le formule per esempio di Darcy Weissbach come qui è disegnata come scritte qui in modo corretto dove cioè Weissbach è scritto con con due S quindi è corretto nella nota in basso e non nella nota in alto e in questo caso si ha che il coefficiente di attrito per la velocità al quadrato è uguale a 2 G S F per il raggio idraulico questo praticamente per definizione quindi questi valori sia del coefficiente di Darcy Weissbach che della pendenza di attrito vengono stimati normalmente in vengono stimati in modo empirico e quindi noi abbiamo delle tabelle che ci riportano questi valori altri altri altre espressioni che possono dare la pendenza di attrito sono la formula di Gautler e Strickler o la formula di Chézy che si usi una o l'altra bisogna naturalmente farlo in maniera consistente si hanno delle espressioni che correllano la velocità con coefficienti appunto che si chiameranno di volta in volta di Gautler Strickler di Darcy Weissbach o di Chézy con il raggio idraulico normalmente e con l'accelerazione di gravità e con la pendenza critica come in tutti gli altri casi anche se andiamo a risolvere il problema dell'equazione di De San Venante quello che dobbiamo fare è porci il problema di quali sono le condizioni iniziali e le condizioni del contorno che permettono di risolvere l'equazione e comunque per quel che mi riguarda avervi introdotto l'esistenza di questa equazione detto che questa equazione è quella che in prima approssimazione regola il moto sulle superfici al di sopra del suolo per me è sufficiente e quindi intanto facciamo una pausa ci sono delle domande? se non ci sono delle domande io mi fermerei qui